Questa interlocuzione ci ha richiesto inesorabilmente molto tempo, come inevitabile d'altra parte, in un negoziato caratterizzato da forti connotazioni politiche, seppur dipanate lungo il binario di un serrato confronto tecnico di natura finanziaria e contabile. In queste settimane, durante le quali i canali del dialogo non si sono mai interrotti, abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni, senza mai arretrare, desidero rimarcarlo, rispetto agli obiettivi che con il voto del 4 marzo gli italiani hanno ritenuto prioritari nell'azione di governo.